central funghi è vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti gastronomici funghi e tartufi freschi secchi e congelati in la gamma di conserve tante specialità con tartufo bianco e tartufo nero di bagnoli irpino senza glutine e senza conservanti in olio extravergine di oliva grande selezione di prodotti tipici irpini come salumi formaggi e tante altre specialità gastronomiche del territorio cesti regalo per qualsiasi occasione central funghi è ad atripalda incontrata tu parole 25 e a mercogliano in via nazionale torrette 164 central funghi specialisti della qualità cesti regalo con prodotti tipici irpini a partire da 15 euro a presto a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. I siciliani ad una voce ammettono, andremo a Barcellona per il riscatto. L'Avellino torna a sudare al partenio Lombardi in vista del derby di lunedì sera alle 20.45 contro il Benevento, aiutare di mister Pazienza e del prof Laporta. Varela e Ricciardi continuano il loro programma di allenamento differenziato correndo ai bordi del campo. Mentre la squadra dopo una prima parte dedicata all'atletica si è tuffata in campo con una partita classica a ranghi misti, attacco contro difesa. Abbiamo visto il grande spolvero Jacopo Dalloglio che dopo il gol al Picerno scalpita per una maglia di tolare. In mezzo al campo abbiamo visto un Michele Pazienza molto aggressivo verbalmente con i giocatori, vuole il massimo, vuole caricare la squadra in vista della gara delicata. Quella contro il Benevento di Ateri, altra squadra in lotta per il secondo posto e al momento a pari punti al colpetto dell'Avellino. Ci sono anche dei tifosi al partenio Lombardi pronti a caricare la squadra, a dare il loro supporto e la squadra ha fatto un cenno anche di sorrisi per i tifosi giunti in tribuna a Montevigine. In grande spolvero anche Patirno che sta affinando il suo feeling insieme a Gabriele Gori, attacchi in verticale. Veramente un allenamento costruttivo fino a questo momento che lascia bene sperare ai tifosi dell'Avellino. Per quanto riguarda i tifosi restano ancora 300 biglietti per la tribuna a Montevigine per la gara di lunedì. Si va verso il sold out, aspettiamo anche le disposizioni del GOS, del Benevento per il settore ospiti. Si va anche lì verso il soldato dei 500 tagliandi riservati ai tifosi del Benevento. L'Avellino tornerà a lavorare domani a porte giuse, dunque blindati gli ultimi allenamenti in vista della partita. E poi ci si aspetta la conferenza stampa di Michele Pazienza che anticiperà poi i temi della partita tra lupi e streghe. E ieri a margine dell'evento dedicato alla presentazione del libro La Legge del Partenio ha parlato ai nostri microfoni anche il presidente Angelo Antonio D'Agostino che ha rivelato buone sensazioni per lunedì. Presto parlerò con i ragazzi. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale è evidente che la presenza agli eventi pubblici del presidente D'Agostino aumenti di conseguenza. Seppure con la sua consueta riservatezza nella giornata di ieri ha presenziato a due eventi. Il primo al Teatro Gesualdo per la festa della polizia, il secondo nel pomeriggio ad Atripalda per ricordare la legge del Partenio. Esattamente ciò che servirà per affrontare lunedì sera il benevento. Ma guardi, in base alle ultime partite le sensazioni sono buone. In base alle ultime prestazioni che abbiamo fatto credo che lunedì faremo un'ottima prestazione. Il colloquio con i calciatori ci sarà, come sempre, a poche ore dalla gara, come rivela un eronico presidente. No, no, aspetto ancora. Io ai ragazzi devo parlarci il giorno prima perché sennò dimenticano. Quindi devo parlarci pochi minuti prima, il giorno prima. Il numero uno del sodalizio bianco-verde parla anche a cuore aperto ai tifosi con un messaggio chiaro e circostanziato. I tifosi mi sentono di dire che intanto devono unire tutti quanti numerosi, ma credo che non ce n'è bisogno perché già è sold out. Quindi su questo no. Ma soprattutto che abbiano un comportamento civile perché dobbiamo dimostrare che siamo l'avellino in tutti i sensi. Siamo l'avellino calcisticamente ma anche dal punto di vista del comportamento perché credo che lo sport è importante anche dare lezioni di serietà. Tra gole e assist, gli acquisti di gennaio hanno dato tutti il loro contributo alla causa bianco-verde. Tra i neo arrivati, tre reti a testa per Liotti e De Cristofa. In un avellino che sta ritrovando anche smalto sotto l'aspetto atletico, è evidente l'apporto dei giocatori arrivati dal mercato di riparazione. Tra rete e passaggi vincenti, tutti gli elementi giunti nella loro serpina a stagione in corso stanno dando il proprio contributo. Il giocatore è maggiormente impiegato da Michele Pazienzi e Antonio De Cristofaro. Pumillo è del tecnico di San Severo, 15 presenze, 13 da isolare e due da subentrato. Tre gol contro Latina, Catania e Turris e altre tanti assist per lui. Dietro di lui Daniele Liotti con 14 gettoni, 8 da titolare e 6 da subentrato, conditi da tre gol contro Catania, Giuliano e appunto Turris. Titolarissimo e inamovibile quasi dal suo arrivo, Paolo Frascatore, difensore che ha giocato 12 partite, di cui 11 nell'11 iniziale. L'ex Roma in gol nel 6-1 contro il Picerno ha fornito anche l'assist per Liotti contro il Catania. Dieci presenze per Michele Rocca, di cui 7 da titolare, ed una rete da ex contro gli Etnei. Per l'altro fedelissimo d'ausilio, 11 partite giocate, due gol contro Potenza e Casertana e altrettanti passaggi vincenti contro Picerno e Turris. Quattro gettoni ed un assist nell'ultima trasferta di Torre del Greco per l'argentino Manuel Egliano. De Cristofaro e Frascatore sono gli unici due giocatori ad aver superato i mille minuti. Sono emozionato, ricordo con affetto quegli anni, i tifosi all'epoca erano veramente vicini alla squadra. Il derby contro Benevento vinciamo noi. Pazienza, è un bravo tecnico. Queste le parole di Carlo Spina, ex dirigente dell'Avellino, in Serie A. Ad Atripalda, presso la chiesa di San Nicola da Tolentino, parata di stelle della Serie A, per la nuova tappa del libro La Legge del Partenio, tra loro anche Carlo Spina, storico dirigente bianco-verde che negli anni d'oro della massima serie portò alla Corte dei Lupi l'argentino Ramon Diaz. È stupendo questa serata, non me l'aspettavo, anche se non volevo venire, devo dire la verità, perché mi sono messo in porta con una saracinierca enorme, però il cuore è sempre qui. Dopo la retrocessione dell'88 ha deciso di rilasciare il calcio per amore dell'Avellino. Forse non ci crederete, proposte calcistiche che non ve le sognate proprio, tutte rifiutate, perché io sono di Avellino, per l'Avellino, e basta. Il grande rapporto con Diaz? Diaz l'ho messo a casa mia per tutta la vita che è stato qua ad Avellino, abitavo nella mia villa. Sulla legge del Partenio e su come è cambiato il tifo afferma... Legge del Partenio, era un fatto anche curioso, è uscito questo termine, legge del Partenio, perché i tifosi, io parlo dei tifosi, erano veramente vicini alla squadra, nessuno di loro si permetteva di fare una mezza critica anche quando perdevamo. Questa era la legge del Partenio, ma qua quello che assisto io, perché io me la vedo è la partita dell'Avellino, è logico no? Mica mi guarda da vedere la partita, me la vedo per televisione e mi rendo conto che è cambiato tutto. Ottimista per il derby contro il Benevento. Vince l'Avellino, vince l'Avellino, vince l'Avellino, siamo più forti, siamo partiti un po' a ciaccatelli. Chi le piace in questa Avellino? L'allenatore, l'allenatore è uno che ne capisce. Vedo una finale pre-off tra Avellino e Benevento, il derby di lunedì è un peso importante, quanto affermano i due doppi ex Antonio Loschiavo e Salvatore Di Somma, presenti nel pomeriggio di mercoledì ad Atripalda. E contro la rovescia per il derby tra Avellino e Benevento, in palio c'è il secondo posto dopo la promozione della Juve Sabbia Matematica in Serie B. La squadra di Michele Pazienza, riduce le due vittorie consecutive, deve dare continuità per arrivare ai play-off con un filotto di risultati utili e in piena fiducia. La formazione di Gaetano Teri, protagonista di due pareggi di fila, vuole confermare le parole del presidente Figorito e ritrovare il successo che in Campionato manca dallo scorso 16 marzo. A proiettarsi alla gara di lunedì sera ci sono due ex Antonio Loschiavo e Salvatore Di Somma, con quest'ultimo che svela il desiderio di vedere una finale tutta campana. L'Avellino, ragazzi, noi sulla carta prendiamo l'Avellino, l'Avellino è la squadra più forte, sicuramente del giro con il campionato. Non lo so per quale motivo non sono riusciti a portarlo a termine, una processione di classifica più importante. Non so se l'errore è stato fatto iniziale con la riconferma di Rastelli che nessuno voleva, però da parte dell'Avellino sicuramente non è stato... è stato un campionato deludente, però ultimamente si sono ritrovati e stanno facendo le cose eccellenti, stanno facendo dei risultati importanti e credo che alla fine, e sono convinto, sono convinto che noi vedremo una finale tra Ravino e Benevento, sono convinto che questa sarà la finale play-off, me lo auguro. Sì, anche se poi i pronostici vengono smentiti, però diciamo che l'Avellino forse in questo momento c'è qualcosa in più, perché soprattutto dal punto di vista realizzativo ha dimostrato che rispetto a Benevento c'è certamente i numeri più importanti, però sono partite particolari, buon derby sentito e sicuramente pure il Benevento verrà per dare una soddisfazione ai tifosi come cercheranno di fare i calciotti di Ravino, però ripeto, io credo che in questo momento che Ravino non ci abbia qualcosa in più. In vista del derby di lunedì il Benevento ritrova il suo dodicesimo uomo patto con i tifosi dubbi sulla destra per Gaetano Auteri dopo l'infortunio di Improta, avanzano le chance dall'inizio di Caric. Insieme è la parola più gettonata nelle ore che seguono il derby con la Juve Stabia e precedono un altro, quello di lunedì prossimo ad Avellino. Al fischio finale del match di lunedì i festeggiamenti stabesi per la promozione in B hanno fatto il paio con la manifestazione d'amore che i supporter giardossi che hanno chiamato la squadra sotto lo sud, una consuetudine ormai persa negli ultimi due anni. Non è importato lo 0-0 ma la prestazione sì, orgogliosa e battagliera in una colte di fumo a giallo rossa e sotto lo stressione che vinca o che perda. Giocatori e tifosi si sono guardati negli occhi e si sono stretti in un abbraccio virtuale con salti e battiti di mani a ritmo dei cori, il tutto immortalato dagli smartphone. Video e foto hanno fatto il giro del web postati anche dai calciatori, da un derby all'altro. Il pensiero di Gaetano Terri riguarderà ancora una volta la corsia laterale. Se contro la Juve Stabia c'era da sostituire lo squalificato Simonetti a sinistra con la scelta poi ricaduta su Masciangelo per la trasferta di Avellino, i dubbi riguardano invece la fascia destra. Nonostante l'assenza rosa di una vera e propria alternativa allo stesso Improta, Autari avrà a disposizione diverse pedine. La pista più concreta porta all'utilizzo dell'ex di turno Karic. Difficile pensare ad un cambio modulo, almeno dal primo minuto. Ad un certo punto, contro le Vespe, il benevento è passato al 4-2-3-1 per necessità di conquistare i tre punti. Formazione d'assalto, utile probabilmente a partita in corso se le cose dovessero mettersi male. I dubbi, insomma, sembrano non mancare per Autari e quasi tutti nascondo alle condizioni di Improta, lago della bilancia, iniziando a pensare all'undici da opporre ai lupi. Il Padova volta pagina in chiave play-off, via Torrente torna Oddo, Mantua e Cesena in B, ora la lotteria della post-season è davvero aperta. Il mancato successo del Padova sul campo del Lumezzane 1-1, Ilaria risponde a Bortolussi, fa scattare la promozione aritmetica del Mantua. La squadra di Possanzini festeggia con 9 punti di vantaggio proprio sul Padova che non potrà recuperarli nelle ultime tre giornate, trovandosi sotto negli sconti diretti. Una cavalcata straordinaria quella di Galupini e compagni capaci di conciliare il gioco più spettacolare dell'intera Serie C. Almeno un anno di distanza dalla retrocessione agli out e la reammissione con una squadra quasi totalmente rivoluzionata, solo tre i superstiti del capolavoro firmato Botturi, il Mantua torna così in B dopo 14 anni. Una bomba però sconquassa il calcio Padova, poche giornate dalla fine della stagione legolare con il secondo posto quasi in tasca e l'inizio dei play-off tra meno di un mese. Esonerato Torrente dentro Massimo Oddo. Ad oggi le qualificate del girone A, oltre ai venenti, sono Vicenza, Cristina, Atalanta, Annel 23, Legnago. Il Cesena, affamato di record, non ha il piede dall'acceleratore nemmeno a promozione acquisita. L'ennesimo successo della capolista è arrivato sul campo della Juventus Next Gen, avanti al 79esimo con Turchicchia, ma ribalta nel finale con Ciofi e Corazza. Seconda sconfitta di Filape da Torres, comunque seconda. A Sassari passa la fermana, succede tutto nel primo tempo, decisivo Vaponi. E così la squadra di Mosconi, ora penultima, si rilancia all'inseguimento dei play-out. Si riapre invece la corsa al terzo posto col Perugia che stende l'olbia, adesso ultimo. 3-0 al debutto in panchina per Biagioni e approfitta dell'inatteso crollo della Cararese, reduce da 13 risultati utili sul campo della Re Canatese. Il 4-1 fa segnare la salvezza diretta ai mercheggiani. Già qualificate, appunto, Torres, Cararese, Perugia e Gubbio. Il basket Barcellona deve essere per noi il momento del riscatto. Domenica vogliamo vincere contro Piazza Armerina e quanto affermano l'ala della Scandone da Lino Bazzarese e la guardia Matteo Tonello. È una partita veramente dura, abbiamo avuto un grande dispendio di energie fisiche ma anche un grande dispendio di energie mentali. Il palazzetto è stato veramente caldo, i tifosi di Barcellona si sono fatti trovare pronti ma alla fine abbiamo avuto la meglio e di questo ne sono veramente molto contento. È importante aver vinto questa partita che, nonostante loro fossero una squadra giovanissima, era veramente complicato andare lì e vincere ma sono stati veramente bravi. Piazza Armerina è sicuramente una partita che sarà difficilissima, oramai abbiamo due partite che sono fondamentali per il proseguo della stagione. Piazza Armerina è una squadra forte, una squadra esperta, giochiamo fuori casa, una trasferta lunga. Non lo so, io vedo che Barcellona è stata un po' la riscossa, un po' di aria, c'è stata un po' di aria e credo che la mentalità che avremmo per andare a Piazza Armerina sia quella di vincere, di non fare conti con se vinciamo o se perdiamo. Bisogna andare lì e vincere, abbiamo tutte le carte in regola, l'abbiamo fatta in casa, sappiamo quali sono i loro punti deboli, quali sono i punti forti. Sapremmo sicuramente affrontare la partita in un modo deciso. Certamente abbiamo parlato con lo staff e abbiamo, come ha detto bene Matte, cercato di capire quelli che sono i loro punti di forza. Naturalmente con Barcellona è stata una bella vittoria, però non ci scordiamo che noi partiamo in questo giro in Cina da capolista, quindi abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere qualsiasi partita, quindi non sorprende il fatto che noi andiamo magari in trasferta a vincere o quando vinciamo in casa. Certamente sono partite dure, Piazza Ramiri è una squadra molto forte, così come Messina, però se noi vogliamo andare avanti, insomma, dobbiamo passare per queste due partite, quindi ci faremo trovare pronti. Torna questa sera alle 21 polvere di stelle, il format dedicato al calcio dilettante condotto da Alfonso Marrazzo e Franco Pitaniello avrà come ospite il DS del Cervinara Silvio Maglione. Da venerdì a domenica il teatro Carlo Gesualdo sarà lo scenario della terza edizione del premio internazionale della danza, pronti a salire sul palco del teatro avellinese tante stelle internazionali. Gwendalina Manzi e il direttore artistico Fabrizio Esposito ci illustrano ai nostri microfoni il programma della Kermess. Si prospetta veramente un weekend di fuoco, siamo alla terza edizione, come già hai detto tu correttamente, siamo qui con il maestro Fabrizio Esposito che è il direttore artistico, io sono l'ideatrice del premio e ho coinvolto ovviamente un professionista come lui, non potevo fare diversamente. Sarà una tre giorni di sold out? Sì, sarà una tre giorni di sold out, abbiamo tantissimi ragazzi che parteciperanno ai concorsi sia per solisti che per gruppi, ci sarà una matinee per le scuole il venerdì mattina e anche lì è sold out perché fortunatamente anche le scuole ci hanno dato il loro sostegno e poi il pomeriggio procediamo con i concorsi, la mattina della domenica ancora concorsi e poi la sera c'è la grande serata del gala. Fabrizio, piuttore artistico del Galà L'Etoile, le stelle pronte a scendere sul palco del Gesualdo. Sì, è un'occasione unica per Avellino, anzi noi invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare, ci sono ancora dei biglietti in vendita su Viva Ticket domenica 14 aprile alle ore 21, è piena di stelle, Piena di stelle Avellino diventa il centro italiano della danza per tre giorni, abbiamo anche dei premi internazionali da dare che sono stati scelti, arrivano da Madrid, da Parigi, da Berlino, da Belgrado, quindi uno sforzo veramente enorme. Puoi svelarci qualche stella? Ma certo, non abbiamo segreti. Allora, intanto noi premiamo la fondazione Pina Bausch della compagnia Wuppertal, che per noi è un onore enorme, non si affacciano mai sui palcoscenici italiani, e viene il direttore della compagnia, abbiamo come ospite una loro icona della danza che è Giulia Shannon, che ballerà una solo di Pina Bausch. Poi c'è una mostra dedicata a Pina Bausch di Francesco Carbone, che era il fotografo della compagnia per tanti anni, che risiede ad Avellino, una mostra molto importante, fotografica, poi abbiamo Lucia Lacarra, premio alla carriera, Roger Salas da Madrid, che è il critico più importante della danza in Europa, insomma abbiamo molti, molti, molte idee espresse ormai. Lei ha parlato anche con Nurev, con Voll, abbiamo visto un po' la carriera di Fabrizio Esposito, ma la danza, secondo lei, adesso è una disciplina aperta di più agli uomini? Assolutamente sì, diciamo che alcune trasmissioni e televisioni nel bene e nel male hanno comunque introdotto l'idea che maschio è bello in danza, quindi io, per carità, all'epoca mia ce ne erano di meno, adesso ce ne sono di più, ma comunque è aperta ormai, non ho mai visto maschi più virili dei danzatori. Guadalena Manzi, viva la danza! Viva la danza, però ci tenevo a fare un ringraziamento, ringraziamo il comune di Avellino, perché grazie a loro per la terza edizione, ci hanno dato fiducia, credono in questo progetto, siamo ancora sul campo. La quarta edizione dell'Irpinia Cup, manifestazione dedicata ai calciatori medici, è stata vinta dalla delegazione di Cosenza, alfina di Montemiletto, Sport e Solidarietà. La quarta edizione dell'Irpinia Cup, manifestazione riservata ai medici calciatori, è andata alla delegazione calabrese della città di Cosenza, che, battendo Napoli e Slernia Avellino, si aggiudica l'ambito trofeo, che si è disputato per la seconda volta presso lo stadio Fina di Montemiletto. Mattatori della squadra del presidente, Antonio Caputo, è allenata da Enrico Costabile, storico medico sociale del Cosenza Calcio, gli attacchianti Pesciatelli, autore di Sette Reti e fabbricatore, che ne ha messo a segno ben sei. Nello score delle 16 reti segnate, invece, ci sono anche i medici calciatori Caputi, Eugenio Camodeca e Barone. Altra nota di merito per i cosentini è stata la porta inviolata di Davide Sbano, che non ha subito neanche un gol. La rappresentanza di Avellino, invece, del referente Francesco D'Amelio, non ha affatto sfigurato, battendo per 7-0 in Lecce e pareggiando 1-1 contro il Taranto. Al termine della competizione, la raccolta fondi garantirà la costruzione di una panchina rossa, simbolo del costrasto sulla violenza sulle donne, che sarà impiantata nella città della Leonessa, a Montemiletto. Continuate a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e il nostro sito internet saranno sempre aggiornati a vostra disposizione. Non ci sono altre notizie, la nostra informazione torna questa sera. Io vi auguro una buona giornata. Io vi auguro una buona giornata.